La presenza è, sparticolo rispondendo su un'area numero 7. Per seguit passareu a presentar 3 jugadores de cada equip. Per seguit passareu a presentar 3 jugadores de cada equip. Per seguiti, numero 15, l'aula de intercursione, Valeria Kars, Antonio Lago, Jorge Ménye. Capitном porti, José Luñez y Javier Millera. Grazie a tutti. 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 Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie. Grazie. Grazie a tutti. Grazie. 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 Grazie a tutti. Grazie. Grazie. Grazie a tutti. . Grazie. Grazie a tutti. , grazie a tutti. 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 , grazie a tutti. , 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 a tutti.